Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del telegiornale di TV City. In apertura la cronaca siamo a Torre del Greco. Due giovani di 26 e 28 anni sono finiti in manette con l'accusa di tentata rapina ai danni di una donna. I fatti risalgono al mese di settembre. Ancora cronaca, prosegue a Torre Annunziata l'operazione delle forze dell'ordine di contrasto ai simboli della prepotenza rimosse fioriere e un'imbarcazione di porto. Restiamo a Torre Annunziata, cordoglio per la morte del giovane operaio di 23 anni precipitato da un'impalcatura. Il giorno dei funerali, annuncia il sindaco Ascione, sarà lutto cittadino. Torniamo a Torre del Greco per parlare dei disagi sul fronte rifiuti via alla bonifica nell'ex area container di via Circonvalazione. Dopo la chiusura di Viale Sardegna, riapre il centro per il deposito degli ingombranti della Santissima Trinità. Ne abbiamo parlato con il consigliere comunale Luigi Mele. Restiamo a Torre del Greco. Da Palazzo Baronale arriva la nomina di Ciro Accardo a consigliere delegato. Questo ed altro. Guardiamo i servizi. Avevano tentato a bordo di uno scooter di sottrarre la borsa ad una donna, trascinandola per alcuni metri sull'asfalto e si erano poi dati alla fuga. I fatti risalgono al mese di settembre. Oggi due giovani di 26 e 28 anni di Torre del Greco sono stati arrestati con l'accusa di tentata rapina ai danni di una donna. Questa mattina i carabinieri della compagnia di Torre del Greco, in esecuzione della misura cautelare veste dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata, su conforme richiesta della Procura della Repubblica dello stesso Tribunale, hanno proceduto all'arresto di due torresi di 26 e 28 anni gravemente indiziati del reato di rapina. Le indagini si sono avvalse dai filmati delle telecamere comunali, consentendo agli inquirenti di ricostruire i fatti e giungere agli arresti odierni, anche a seguito della denuncia della donna. I due uomini sono stati tradotti alla casa circondariale di Poggio Reale a disposizione dell'autorità giudiziaria. In campo per la legalità, prosegue Torre Annunziata l'attività di contrasto ai cosiddetti simboli della prepotenza. Nell'ambito dei servizi ad alto impatto disposti dal Comando Provinciale di Napoli, i carabinieri della locale compagnia, insieme a quelli del Reggimento Campania e agli agenti della Polizia Municipale, hanno effettuato diverse perquisizioni e posti di controllo rafforzati. Rimosse venti fiorieri a Via Roma e a Via Carducci, messi abusivamente per l'indebita occupazione dei posti auto lungo la pubblica via. Rimossa anche un'imbarcazione da di porto di circa 4 metri, che era parcheggiata senza alcun titolo in Via Cavour, sanzionato il titolare. Durante le operazioni, militari hanno denunciato un 39enne del posto, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo, sorvegliato speciale di pubblica sicurezza, dovrà rispondere dell'inosservanza delle prescrizioni imposte dalla misura a cui è sottoposto, e di abusivismo edilizio. I carabinieri hanno accertato che il 39enne aveva realizzato in uno spazio condominiale un ampliamento del proprio appartamento di 12 metri quadrati. L'opera abusiva impediva di fatto l'accesso all'appartamento accanto, che era stato sequestrato ad un esponente locale del clan Gionta ed acquisito al patrimonio dell'ente comunale. Identificate 76 persone, controllati 62 veicoli, 24 le sanzioni, al codice della strada, 9 i mezzi sequestrati. Non ce l'ha fatta il giovane operaio 23enne di Torri Annunziata, precipitato da un'impalcatura. È morto ieri sera all'ospedale del mare a causa delle ferite riportate. La vittima è Mario Papa, 23 anni, addetto con regolare contratto di lavoro presso un'azienda specializzata nella produzione di materiale sportivo. Il giovane, stando ad una prima ricostruzione effettuata dagli agenti di polizia municipale, intervenuti ad effettuare i sopralluoghi dopo l'incidente nel capannone di via Sant'Alfonso dei Liguri, sarebbe precipitato ieri pomeriggio da un'altezza di circa 4 metri, mentre era impegnato in attività legate alle proprie mansioni. Immediatamente soccorso e trasportato d'urgenza all'ospedale del mare è stato sottoposto ad un intervento d'urgenza. Purtroppo Mario non ce l'ha fatta. È una tragedia immane, il cordoglio del sindaco Vincenzo Ascione. La notizia della sua morte ci ha sconvolti e lasciati sgomenti. Il primo pensiero è rivolto ai familiari, ai quali esprimiamo il nostro cordoglio, abbracciandoli idealmente in questi momenti tanto drammatici quanto dolorosi, consapevoli del fatto che nessun gesto o parola potrà in alcun modo lenire la loro sofferenza. Il giorno dei funerali verrà proclamato il lutto cittadino. Sul caso è stata aperta un'inchiesta della Procura di Torre Annunziata, mentre la Salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria per eseguire l'autopsia. L'ennesima pulizia straordinaria. È in programma questa sera e domani una bonifica nell'area mercatale di via Circonvolazione a Torre del Greco, letteralmente invasa dai rifiuti. Una problematica atavica è mai risolta, una richiesta che ancora una volta arriva dalle scuole che si trovano in zona e dopo numerose lamentele e sollecitazioni anche dei cittadini. Ne abbiamo parlato ai microfoni di TV City con il consigliere con delega ai rifiuti, Luigi Mele. Da anni quella è una zona abbandonata, quindi è chiaro che la gente, purtroppo i delinquenti, vanno lì a sversare. Stiamo organizzando una bonifica totale dell'area che partirà da questa sera e che penso impegnerà anche la giornata di domani. Chiaramente è l'entissima pulizia straordinaria che facciamo in quella zona. È ovvio che stiamo cercando di mettere in atto tutte quelle che sono le azioni a noi possibili per poter controllare quanto più possibile in quell'area. Magari faremo istrallare delle frottotrappole in modo tale che chi in modo abusivo, perché anche stamattina andando a fare un solo luogo, abbiamo incontrato una persona che stava lì depositando un sacchetto di carta ben differenziato, però andava a depositare lì. Chiaramente perché ieri sera ha dimenticato di portarlo fuori o l'altra sera. Quindi abbiamo detto chiaramente di tornare indietro con quel sacchetto e di aspettare il giorno di conferimento nel quale si può buttare carta. È assurdo che i cittadini possano pensare che quello sia un punto di accumulo dove poterli andare a sversare in qualsiasi ora del giorno e della notte. Non è possibile se puliamo una zona e dopo, non dico due giorni, ma dopo due ore ritroviamo già rifiuti, significa che c'è la volontà di qualcuno a voler tenere la nostra città sporca. Lo diceva lei prima, in quell'area ci sono due scuole, ma lì non sono previste delle telecamere di videosorveglianza. Purtroppo la città è grande. Mettere delle telecamere fisse significa un lavoro enorme, anche perché poi ci siamo resi conto con le fototrappole stesse che mettendola da una parte il problema lo spostiamo alla prima curva o alla prima strada adiacente. Quindi ci vorrebbero telecamere ogni 20 metri e ciò diventa veramente impossibile e improponibile. Disaggi anche per la chiusura del punto mobile per il deposito degli ingombranti di Viale Sardegna. L'amministrazione comunale corsa ai ripari con la riapertura del sito della Santissima Trinità, chiuso ormai da diverse settimane. È stato fatto un ricorso al TAR da parte di uno dei confinanti, giustamente ognuno cerca di tutelarsi la propria abitazione. Quindi in via cautelativa abbiamo ritenuto opportuno chiuderlo per evitare poi ulteriori sorprese. E quindi stiamo riattivando quello di Santissima Trinità, stiamo cercando di ampliarlo anche. Abbiamo parlato stamattina con il dirigente, eventualmente mettiamo anche delle piante per limitare la visuale dalla strada. e cercando di fare un ingresso e un'uscita dall'area del parcheggio in maniera tale che magari non si crea quel punto di incastro di ingombro da parte delle auto che sono lì ferme per poter depositare. Il punto ingombrante non è né per le attività commerciali e né per le imprese ed ili che devono andare lì a sversare i loro rifiuti. Chi fa impresa ha l'opportunità di avere un punto di scarico chiaramente privato a pagamento e quindi di conseguenza deve andare lì a riversare i rifiuti. Dunque in questo momento per depositare gli ingombranti i cittadini come possono fare? Il problema è proprio di oggi perché ripeto in via cautelativa è stata chiusa via Sardegna quindi c'è una persona lì che sta dando indicazioni di poter conferire i rifiuti a Santissima Trinità. Quindi Santissima Trinità in questo momento è aperto sia per i RAI che per gli ingombranti. Chiaramente stiamo cercando di ampliare l'area in modo che possa essere più agevole e più fluibile dalle macchine che vanno lì a depositare i rifiuti. Una funzione propositiva e di consulenza nei confronti del sindaco. Ciro Accardo, l'ex assessore dell'Aggiunta Borriello primo dei non eletti nella lista civica Ci vuole coraggio subentrato di recente in consiglio comunale al posto di Anna Laura Guarino è stato nominato con decreto sindacale del 25 ottobre consigliere delegato per l'esercizio delle funzioni di coordinamento nella materia del PNRR, vale a dire il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Si tratta del piano preparato dall'Italia per rilanciare l'economia dopo la pandemia al fine di consentire lo sviluppo verde e digitale del Paese. Fa parte del programma dell'Unione Europea noto come Next Generation un fondo da 750 miliardi di euro per la ripresa europea. Una scelta che nasce nell'ottica di avvalersi della collaborazione di alcuni consiglieri comunali rispetto ai componenti dell'Aggiunta ai quali affidare, nel quadro delle generali funzioni di indirizzo e coordinamento una funzione propositiva e di consulenza nei confronti del sindaco in ordine a determinate materie e servizi comunali. Una delega specifica. Il PNRR ha infatti una serie di cluster di interventi che obbligano ad una concreta azione di coordinamento per seguire, supportare ed adottare tutte le iniziative da porre in essere in merito. Non è previsto alcun riconoscimento economico per i consiglieri delegati nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa previste dalle attuali disposizioni vigenti in materia. I delegati non possono adottare atti a rilevanza esterna nei compiti di amministrazione attiva ma tutto si traduce unicamente in un'attività di collaborazione per l'esercizio delle funzioni da parte del sindaco che ne resta unico titolare. Il consigliere delegato non parteciperà alle sedute dell'Aggiunta ne avrà poteri decisionali ma la sua funzione è quella di rendere più efficace lo svolgimento del mandato del sindaco e migliorare il collegamento istituzionale tra gli organi eletti e la cittadinanza. Con questa notizia si chiude anche oggi questa edizione del nostro OTG. Vi ricordo che per info e segnalazioni potete inviare un'e-mail all'indirizzo redazione-tvcity.it o chiamare al numero 340-6561-484. Con questo è veramente tutto. Arrivederci a domani. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS